Oggi ci avete chiesto se sia possibile contestare una poste per Evolution. Le carte prepagate, sia quelle monite di IBAN, sia quelle senza emesse da poste, ad esempio la poste per Evolution oppure il da banche, sono tutte nominative. Se si parla di prepagata nominativa, si intende che la suddetta carta deve avere un solo intestatario. La carta è in questione, perciò potrà essere utilizzata esclusivamente dal titolare. Anche se sopra non compare scritto il suo nome. Esistono carte prepagate, monite di un codice IBAN, in grado di offrire dei servizi bancari che normalmente vengono concessi, solo aprendo un conto corrente. Nonostante ciò, queste carte non possono avere più di un intestatario. È possibile contestare la poste per Evolution? La poste per Evolution, purtroppo nonostante la poste per Evolution abbia il codice IBAN, non può essere intestata a più di una persona. Anche la Paypal prepagata non può essere intestata a più di una persona. Rimanendo in tema, non è possibile contestare neppure il conto Paypal. Ovviamente questo vale anche per le carte Conto, Super Flash Genius Card. È possibile contestare soltanto libretti di risparmio, conti correnti e conto deposito. Per richiedere la poste Pay, è possibile delegare? Sembra che non si possa delegare una persona per richiedere la propria poste Pay. Il motivo è che la carta è nominativa e deve essere richiesta esclusivamente da chi ne dovrà titolare. Sì, sì, sì. Grazie.